Nel video di oggi vi parlerò di 5 cose che se avessi saputo prima di iniziare a fare cosplay sicuramente mi sarei risparmiata un sacco di preoccupazioni, stress, paranoie inutili. Mi avrebbero sicuramente aiutato a godermi l'esperienza al pieno sin da subito ed è quello che voglio che facciano i nuovi cosplayer, quindi statemi a sentire se siete interessati. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, per favore è molto importante, grazie mille! Lasciatemi anche un mi piace e un commento se vi va. Iniziamo con la prima cosa che avrei voluto sapere prima di iniziare a fare cosplay. Non ci sono regole, questa è una delle mie cose preferite per il cosplay ma che all'inizio non conoscevo. Esiste per caso una bibbia del cosplay? I cosplayer sono tenuti a seguire un rigido regolamento? No, il cosplay permette tutto. Ovviamente non starò qui a dirvi che se fate cose illegali o controverse o di cattivo gusto magari non è il caso. La cosa positiva è che puoi creare un cosplay sfogando la tua creatività, puoi scegliere tu come farlo, se dare quel tocco personale o anche non essere perfetto. La cosa negativa è che sicuramente ci saranno delle persone che potrebbero farti sentire inadatto per alcune tue scelte. A me era successo all'inizio ma è stato solamente stress inutile a cui non avrei assolutamente dovuto badare, dato che appunto non c'è scritto da nessuna parte come fare cosplay. Penso sia una cosa molto importante da ricordare, soprattutto se avete appena iniziato. Mi raccomando! Numero due, va bene riportare cosplay già fatti. Non so chi mi avesse messo in testa questo pensiero, ma quando ho iniziato a fare cosplay pensavo che riportare lo stesso cosplay a fiere diverse fosse una cosa sbagliata. Sentivo come se un cosplay si è portato una sola volta, allora iniziava già a diventare vecchio e dovevo subito adoperarmi per crearne uno nuovo per una nuova fiera. Ho ben presto capito che non aveva senso come cosa, ma mi sono accorta che non ero l'unica a pensarla così. Molti cosplayer, soprattutto all'inizio, pensavano fosse sbagliato riportare dei cosplay già fatti. Se ci pensate è veramente una mentalità sbagliatissima, molto poco ecologica, del fatto che una volta che indossi una cosa poi basta la devi buttare o non la devi mai più indossare. Non c'è nulla di male a essere affezionati a un personaggio e magari volerlo riportare più volte. Ricordate che siete liberissimi di farlo, potete anche riportare lo stesso identico personaggio ogni volta che andate ad una fiera. La cosa veramente importante, ricordatevi di lavare il cosplay. Ecco, non portate lo stesso cosplay in fiera se prima non l'avete lavato. Quella è una cosa da sapere, lavatevi. Numero 3. Anche se non è perfetto, non fa nulla. Dovete sapere, sono una tipa molto precisina, ma c'era un periodo in cui ero talmente fissata che impazzivo per qualsiasi dettaglio fuori posto di un cosplay. Che poi tutta questa fissazione, ma non dovevo neanche partecipare a delle gare. E se dovevo partecipare a delle gare erano veramente molto poco importanti. Per non parlare poi delle volte che notavo dei dettagli sbagliati, provavo a cambiarli da sola, ma non essendo capace, combinavo solo casini e finivo per rovinare tutto. Quindi a volte forse è meglio neanche toccare certi dettagli. A quei tempi avrei veramente voluto che qualcuno mi dicesse che non era necessario avere un cosplay perfetto dalla testa ai piedi. Non che qualcuno mi avesse mai detto il contrario, il problema era proprio la mia mentalità e anche delle cose che magari avevo letto su qualche gruppo, qualche forum. Sì, ai miei tempi c'erano i forum di cosplay. Adesso veramente la prendo molto più alla leggera, un po' perché ho meno tempo da dedicarci. Ma anche perché lo faccio per divertirmi e non per stressarmi inutilmente. Altro disclaimer, non vi sto dicendo così perché voglio che facciate cosplay brutti, assolutamente no. Anzi vi consiglio sempre di stare attenti nell'insieme del cosplay, do vari consigli su come migliorare vari dettagli o cose a cui magari non potreste pensare. Anche perché è quello che vi farà sentire più soddisfatti del risultato finale. Nello stesso tempo però non perdeteci la testa, se c'è qualcosa che sapete che non riuscirete a fare, non siete capaci o veramente nessun altro lo noterà, lasciate perdere. Non c'è scritto da nessuna parte che bisogna essere perfetti. Per non parlare del fatto che se magari vi perdete qualche dettaglio non si accongerà nessuno, lo saprete solo voi. Quarto consiglio, nell'indecisione prendi una taglia più grande. Questo consiglio può sembrare molto tecnico, ma lo trovo molto utile. Quando state per comprare un cosplay è sempre bene controllare la tabella con le misure. Di solito è nella descrizione dello shop o dell'articolo in sé. Talvolta però le tabelle hanno misure un po' strane, che non combaciano esattamente con le vostre. Per non parlare del fatto che a volte neanche ci sono queste tabelle con le misure. Ti dicono semplicemente che magari c'è la S, la M, la L. E fine. Cosa fare quindi? Il mio consiglio è questo. Se sei indeciso per esempio tra una M e una L, prendi la L. Veramente. Il motivo? Stringere un cosplay è molto semplice, anche se non sei un grandissimo esperto nel cucito. Se invece lo prendi troppo piccolo, allora in quel caso sarà veramente un casino doverlo allargare. Dovreste andare da magari dei sarti, trovare della stoffa che combaci con il tessuto, diventa un macello. Quindi è sempre meglio stringere. E poi non si sa mai perché sono anche taglie cinesi, quindi magari la L vi starà perfetta. Seguite il mio consiglio, fatemi sapere. Siamo arrivati al numero 5, ovvero l'ultimo consiglio che voglio darvi. Non sei costretto a fare cosplay sempre. Cosa intendo dire con questo? Se vuoi partecipare ad una fiera del fumetto, ma non sai che cosplay portare, oppure sai che quello che stai facendo non lo finirai mai in tempo, e cose del genere, allora non stressatevi e considerate l'idea di andarci in borghese. Cosa? Non andare in cosplay ad una fiera? Eh sì, sì sì. All'inizio era una cosa che mi metteva quasi a disagio, poi mi sono resa conto che non c'era assolutamente niente di sbagliato nell'andare vestiti normali ad una fiera del fumetto. Mi è capitato varie volte perché magari sapevo che il cosplay con la pioggia si sarebbe rovinato e non ne valeva la pena, oppure non avevo voglia, mi sentivo stanca ma volevo comunque andare in fiera, cosa del genere. Vi confesso che dopo il cartoon mix potrei adattare questo metodo più volte, perché mi sono resa conto che a fare cosplay in casa mi sono un po' rammollita, quasi quasi preferirei stare in borghese, ma va bene. Spero che questo video vi sia piaciuto e possa essere stato utile per chi magari ha appena iniziato a fare cosplay o vuole iniziare. Sono miei consigli molto personali, non sono regole eccetera, come dicevo appunto non esistono regole, ma spero vi abbiano aiutato in qualche maniera. Noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video, mi raccomando vi invito a seguirmi anche sui miei altri social tipo Instagram, Twitter e noi ci vediamo settimana prossima qui su YouTube con un altro video. Buon fine settimana e ciao mia!